Qui era un pieno d'acqua, è tutto allagato, è entrato dentro i negozi, è entrato dentro le abitazioni, nei semi interrate, nei garage. Qui praticamente sembrava di essere a Venezia, invece che le strade erano coperte di acqua. Io mi sono trovato fermo in macchina dalle sette e mezzo alle dieci, in attesa che l'acqua calasse di livello e poi ho dovuto abbandonare la macchina e tornare a casa attraversando i vari guadi. Era lo scorso 27 luglio quando un violento nubifragio si era abbattuto sull'Aretino, tra le zone più colpite anche quella di Via Romana che era così finita sott'acqua. Strade allagate, scantinati sotto centimetri di acqua e fango, un evento atmosferico indubbiamente dalla portata eccezionale, ma in quella zona purtroppo il rischio alluvione non è così remoto. Purtroppo qui in Via Romana il problema sta diventando strutturale al verificarsi anche di precipitazione di ordinaria entità come in questo periodo avvengono a seguito del cambiamento climatico. È così nato oggi il comitato spontaneo di Via Romana. Ci siamo uniti per coordinarci in modo che questo maressere costante che ormai viviamo in questo quartiere trovi una soluzione perché il trauma l'abbiamo vissuto e quindi tutte le volte che c'è una precipitazione ci troviamo con la paura che le nostre case si allaghino e quando non siamo più tranquilli né quando siamo al lavoro né eventualmente anche se siamo in vacanza. Telefoniamoci, accettiamo che le nostre case non abbiano subito allagamenti e questo vorremmo che finisse nel più breve tempo possibile. Qual è infatti l'obiettivo di questo comitato? L'obiettivo è quello di seguire costantemente tutte le progettualità che sono state fatte o che verranno fatte per rimuovere il problema. Quindi è uno spirito collaborativo, è quello informativo perché l'informazione sicuramente ci tranquillizza sul fatto che comunque le istituzioni che sono competenti ad intervenire intervengono e stiano facendo tutti i passi che devono essere fatti.